La situazione lavorativa che in regione si fa sempre più difficile aziende che chiudono lavoratori in cassa integrazione o licenziati ed è al lavoro che non c'è che la nostra emittente ha dedicato il nuovo spot di comunicazione sociale. Allora vediamo la presentazione nel commento del nostro direttore Emanuela Petescia. Nel Molise non c'è lavoro e lo sapevamo. Nel Molise non c'è lavoro e quel poco che c'era Paolo Di Laura Frattura lo ha sterminato. 7.700 posti perduti in un anno. Altri 5.000, dicono le previsioni, si perderanno nei prossimi mesi. Chiude tutto. Chiudono i vecchi colossi dell'industria e le piccole botteghe artigiane. Chiudono i bar e i negozi, i grandi marchi e le imprese a conduzione familiare. E chiude tutto per un motivo molto semplice e molto triste. In una regione storicamente straziata dalla povertà, dalla scarsità di risorse e dall'assenza di infrastrutture, decidere a tavolino il taglio dei finanziamenti pubblici senza prima aver progettato e soprattutto collaudato un piano di sviluppo alternativo. Che so, magari uno di quelli sbandierati in campagna elettorale per intercettare i voti, è un suicidio. L'economia del Molise, che cammina con le proprie gambe, era uno dei principali slogan di frattura fatto proprio dai lobbisti e dagli aggregati al tavolo del vincitore. Liberali della pasta asciutta, appaltatori e fornitori con i portafogli gonfi di denaro pubblico. E adesso la vediamo, questa economia indipendente priva di stampelle, la vediamo e possiamo anche filmarla con le nostre telecamere. Una schiela di padri e madri di famiglia che cammina con le proprie gambe, appunto verso casa. Seguiti questi padri e madri di famiglia da una schiera di giovani che marciano anch'essi con le proprie gambe verso i muretti delle ville comunali. O verso un treno, che magari li conduca il più lontano possibile dalla loro terra, ammesso che i treni in Molise funzionino e visto che frattura ha dimenticato perfino di depositare i bandi per l'accesso al piano di lavoro giovanile varato dal governo. Chiudono le aziende della regione e tacciono i sindacati. Anzi no, i vertici della triade trovano il tempo per dire qualcosa. Non di certo contro i responsabili di questo sfascio, bensì contro Telemolise. Colpevole Telemolise di aver omesso di elencare in occasione della fulgida giornata del primo maggio le formidabili iniziative intraprese da loro nell'ultimo anno. Telemolise chiede scusa, ma non ce ne eravamo accorti. E non ce ne eravamo accorti perché ormai i sindacati, o meglio, i loro vertici, i loro dirigenti, vivono impantanati tra l'equivoco e l'imbarazzo. L'equivoco e l'imbarazzo di confrontarsi con un'amministrazione cosiddetta di sinistra. Che bello. Peccato che i volti con cui concertano le iniziative sui vari tavoli siano quasi sempre gli stessi del recente passato. I volti dei padroni dell'energia, dell'edilizia e delle bande più o meno larghe, ma è meglio far finta di niente. C'è rimasta solo quella di sinistra, la parola. Eppure tanto basta a spegnere i toni di un dibattito che in altri tempi sarebbe stato feroce e magari avrebbe impedito al governatore in carica di attuare scelte sciagurate e di provocare una disoccupazione che in questa regione definire oscena è poco. E a breve, come se non bastasse, nel tritacarne della disoccupazione indotta dal Vangelo secondo Frattura, quello dell'economia che cammina, anzi sprofonda con le proprie gambe, finirà anche l'Università degli Studi del Molise. Tanto i figli dei ricchi potranno proseguire i loro studi in altre regioni, i figli dei poveri studieranno sul solito muretto della villa comunale o in alternativa potranno fare i muratori nei cantieri edilizi delle torri gemelle dove i lavori sono ripresi alla grande. e così sia o si procede da soli o niente. Ci piacerebbe indovinare a questo punto se il discorso sarà esteso anche per esempio alle iniziative di Union Camere sempre generosamente finanziata da mamma regione quando la presidenza di quell'ente c'era proprio Frattura. E perché no se il discorso sarà esteso per esempio al Neuromet per vedere se è capace di camminare con le proprie gambe senza stampelle senza aviduti pubblici. Fatto sa che Telemolise in 30 anni di attività non ha mai registrato tanta miseria tanta disperazione e allo stesso tempo tanta inerzia e tanta inefficienza amministrativa. Per la verità non ha mai nemmeno registrato tanta spocchia e tanta presunzione e indifferenza di una classe politica al grido di dolore della propria terra. L'ha registrata oggi questa disperazione e l'ha trasformata in uno spot di comunicazione sociale gratuito come gratuita è sempre stata la partecipazione della tv al dolore e al disagio della sua terra. E ora vediamo insieme in anteprima allo spot di comunicazione sociale che accompagnerà le nostre trasmissioni nei prossimi giorni. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Se non c'è il lavoro non c'è famiglia non c'è dignità non c'è democrazia. no 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 you'll never no 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 you'll never no 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 love me love me love me love me no 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 Argomento apriamo la pagina politica, si infittisce il calendario elettorale in vista dell'appuntamento del 25 maggio. A Campobasso è arrivata la candidata del PD al Parlamento europeo Roberta Capone, sostenuta da Roberto Ruta, Massimiliano Scarabeo e dal candidato sindaco di centro-sinistra Antonio Battista. Intanto il circolo SEL spinge per un programma di sinistra e attacca i transfughi provenienti dal centro-destra. La vicepresidente dei giovani democratici europei Roberta Capone, candidata del PD all'Europarlamento, ha fatto tappa a Campobasso per promuovere la sua campagna elettorale, sostenuta dal senatore Roberto Ruta, dall'assessore regionale Massimiliano Scarabeo, dal candidato sindaco Antonio Battista e dai giovani del PD molisano. Roberta Capone punta a realizzare un'Europa diversa e più vicina ai bisogni dei cittadini. Abbiamo la necessità di colmare quel gap che c'è tra le istituzioni, i cittadini e l'Europa e per fare questo abbiamo bisogno di mandare l'Europa migliore e l'Italia migliore al Parlamento europeo. Abbiamo bisogno di parlare di un'Europa diversa, diversa da quella che è stata descritta negli ultimi anni, fatta soltanto di austerità, di fiscal compact. L'Europa è una risorsa straordinaria che ci ha permesso in 60 anni di essere nel miglior continente affondato sulla pace, sull'integrazione dei popoli e sulla solidarietà. Noi dobbiamo continuare su questa linea, abbiamo bisogno di un'Europa più politica, abbiamo bisogno di un Parlamento più politico, di un sistema fiscale unico in tutta Europa, di un sistema lavorativo, abbiamo bisogno di tutelare i diritti dei lavoratori in tutta Europa, che siano gli stessi diritti, abbiamo bisogno di un sistema fiscale unico per contrastare anche l'evasione fiscale. Intanto il circolo SEL di Campobasso ha presentato il suo programma elettorale, marcatamente di sinistra, per tentare di spostare l'asse della variegata coalizione che sostiene il candidato sindaco Antonio Battista. Metteremo al centro ovviamente la costruzione di un nuovo welfare, metteremo al centro i diritti civili, metteremo al centro il lavoro, che per noi è un punto fermo. E intorno a questi tre assi noi costruiremo la nostra battaglia. D'Angelo ha poi criticato la scelta fatta da Bibiana Chierchia di candidarsi col PD e ha bastonato i trasfughi del centro-destra approdati nelle liste di centro-sinistra. Noi siamo contrari a questa, faremo la nostra battaglia, ci batteremo affinché i trasfughi non vengano eletti. Una lista di 30 candidati tutti giovani, un gruppo di persone motivate, pronte a cambiare il volto alla città. La lista si chiama Campobasso Nuova ed è stata illustrata la presenza del candidato del polo civico Michele Scasserra. Anna Maria Di Matteo. Campobasso è una città ormai allo stremo, una città immobile, nel pieno degrado. È arrivato dunque il momento della svolta, scendono così in campo i 30 candidati della lista Campobasso Nuova, che sostengono l'aspirante sindaco del polo civico Michele Scasserra, a fare gli onori di casa il consigliere regionale Nicola Cavaliere. È una lista fatta da giovani donne, giovani uomini che hanno una professionalità variegata, si va dal libero professionista al medico, al disoccupato, alla casalinga, all'impiegato. Abbiamo scelto un po' tutte le figure della società civile Campobassana ed è una lista appunto civica rivolta a questa tornata amministrativa con un obiettivo anche dato dal nome che abbiamo dato a questa lista, Campobasso Nuova, per cercare di dare un taglio concreto e un'immagine nuova a Campobasso. A sostegno del candidato sindaco Michele Scasserra, un candidato giovane, in effetti anche la lista è caratterizzata dalla presenza di molti giovani, come d'altra parte in quasi tutte le liste in questa tornata elettorale. Come mai? Cos'è cambiato? Guardi, questo è quello che chiede la società. Noi abbiamo recepito questa richiesta forte che proviene dalla società, ora ci aspettiamo che la società risponda a queste esigenze che loro stessi chiedono. Lei si è sospeso da Forza Italia, dal centro-destra che sosteneva Gini Bartolomeo molti sono passati dal centro-sinistra. Per quanto riguarda Forza Italia, lei mi ha posto questa domanda, io le dico che mi sono autosospeso perché non ho condiviso minimamente le decisioni del commissario, il resto di questa è mia opinione, alla fine valuteremo se la linea del commissario sarà stata quella giusta, quella che premia Forza Italia, o se ci sarà da fare i conti e anche le valutazioni su quelli che sono i risultati. Auguro a tutti sicuramente un buon lavoro in questa campagna elettorale e che il voto popolare è sempre quello giusto e quello che la gente sceglie. L'esperienza amministrativa e volti nuovi nella lista di Forza Italia che sostiene Michele Marrone a sindaco al Comune di Termoli. All'incontro di presentazione ha partecipato anche il parlamentare abruzzese Fabrizio Di Stefano. Fabrizio Occhionero. Esperienza e rinnovamento nella lista di Forza Italia che sostiene Michele Marrone alla carica di sindaco di Termoli. I candidati consiglieri sono stati presentati dai responsabili locali del partito che hanno organizzato la squadra e dato impulso alla campagna elettorale. Per sostenere la lista è intervenuto il deputato abruzzese Fabrizio Di Stefano che ha rimarcato così il ruolo del partito di Berlusconi all'interno della coalizione. Forza Italia, primo partito della coalizione, è intenzionato a essere il ruolo di collettore, di raccordo, di perno all'interno della squadra. Il fatto stesso di aver aggregato tante liste intorno allo stesso candidato credo che sia già un grande risultato. Oggi bisogna però dare il secondo risultato, quello di portare questa squadra e questo candidato alla vittoria. Il coordinatore provinciale Pierluigi Repore ha evidenziato l'intesa raggiunta sulla scelta di un candidato sindaco capace e addetto di esprimere l'unità del centro-destra, un'azione politica e amministrativa che sarà fondata sull'ascolto, ha aggiunto Marone. Di Stefano ha quindi evidenziato la bontà del lavoro svolto sul territorio. Tutto questo lavoro deve essere ora riportato sul territorio, cioè a contatto con la gente e a contatto con i cittadini per intercettare il consenso, per intercettare le sensibilità. Credo che il gruppo dirigente locale di Forza Italia sia all'altezza di questo lavoro, l'ho già fatto tante volte, ritengo che possa farlo egregiamente fino alla vittoria finale anche questa volta. E a sostegno del candidato sindaco Marone è arrivato a Termoli il coordinatore nazionale di NCD Gaetano Quagliariello. Vogliamo il rinnovamento nella continuità, ha detto Pasquale Di Bello. Presentata a Termoli la lista del nuovo centro-destra collegata al candidato sindaco Michele Marone. Una sola parola d'ordine per questa campagna elettorale, rinnovamento nella continuità. E questo è il messaggio lanciato dal coordinatore nazionale del partito, il senatore Gaetano Quagliariello, intervenuto alla manifestazione. L'amministrazione uscente, ha detto Quagliariello, quella guidata da Antonio Di Brino, meritava di andare avanti, ma ha prevarseli noi il senso di responsabilità e il nuovo centro-destra si è messo a disposizione per fare da collante della coalizione. Un'intesa unitaria che riproponiamo ovunque sul territorio nazionale e che un domani potrebbe essere anche il preludio per quella a livello nazionale. Ovunque cerchiamo di trovare ragioni di sintesi, così è stato e così abbiamo fatto a Termoli. Quindi centro-destra compatto attorno alla candidatura di Michele Marone. Strade divise nel centro-destra a Roma, riunite qui invece a Termoli. Vede, la nostra posizione è questa, dove dal territorio giungono notizie di un proficuo lavoro. Noi andiamo avanti con la coalizione. Da noi il partito è come una piramide rovesciata, in testa c'è la base. Dove sul territorio c'è incomprensione o peggio, da parte di altri ci sono atti di arroganza e di prepotenza, beh allora noi andiamo avanti esattamente come abbiamo fatto a Roma. E comunque la bussola che ci guida è sempre quella di procurare un vantaggio alle comunità. Noi vogliamo cercare di coniugare due cose che possono stare insieme, novità e responsabilità. Io penso che questo sia rinnovamento nella continuità. In realtà la giunta precedente meritava di andare avanti, stava lavorando, ma di fronte a quanto è accaduto nessuno ha posto un problema di parte, ma si è riusciti tutti a fare un passo indietro e a trovare una candidatura a sindaco che abbia il significato di comprendere quel messaggio di rinnovamento che veniva dalla città. Se ci si comportasse nello stesso modo a livello nazionale forse ci sarebbe qualche problema in meno nel centro-destra. Emergenza abitativa in Molise. Il Consiglio regionale ha modificato la legge numero 12 del 2013 per agevolare l'acquisto delle case di edilizia pubblica sia popolari che comunali. Sentiamo. L'emergenza abitativa è uno dei problemi che oggi interessa da vicino una gran fascia di popolazione molisana. Spesso gli affitti economici delle case popolari o comunali non risolvono il problema. Così il Consiglio regionale ha pensato di modificare la legge numero 12 del 2013 che regolamenta la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il risultato di tale modifiche avrà ricadute sul prezzo finale delle case che sarà molto più basso rispetto al valore normale. Una legge che è particolarmente agevole rispetto al valore di mercato consentendo di fatti alle persone che vivono ormai da anni di poter finalmente acquisire la propria abitazione. Abbiamo corretto di nuovo la legge nell'ultimo Consiglio perché paradossalmente e per un eccesso, lo devo dire, di burocrazia si intendeva non ricomprendere le pertinenze. Quindi magari una cantina, un garage che rispetto all'unità abitativa principale comunque ne è assolutamente pertinenza. La modifica fatta veramente di corse, di questo ringrazio anche l'intero Consiglio che di nuovo all'unanimità ha deliberato e che quindi sarà pubblicata nel prossimo bollettino consente di poter trattare anche le pertinenze, quando lo sono chiaramente alla stessa stregua dell'alloggio principale il che significa poter dare ugualmente accesso nel completamento di ogni procedura sia all'abitazione e sia all'eventuale pertinenza. Ovviamente ci sono dei requisiti per poter accedere alle agevolazioni per l'acquisto degli immobili, gli ACP o comunali. Una delle priorità di accesso, prerogative di accesso, è proprio il fatto che uno già abbia la titolarità dell'affitto dell'abitazione e che sia almeno da cinque anni titolare del diritto per poter accedere e ugualmente ci sarà un vingolo di non vendita per ulteriore tempo il che significa voler, non direi agevolare, consentire alla famiglia che vive in questo alloggio di poterla fare finalmente proprio e di poter, diciamo anche un domani, darla ai figli la teoria poi viene trasmessa in linea retta per chi ne ha ugualmente diritto. Un'altra cosa importante che però ancora non, e qui bisogna intervenire subito la Giunta regionale è al lavoro per definire un regolamento anche per la diminuzione degli affitti, la riduzione, tenendo conto dei redditi del nucleo familiare, delle possibilità della famiglia perché è un problema sociale molto sentito, siamo in attesa del regolamento la stessa legge prevede anche questo. E una moratoria sugli sfratti attuati dallo IACP la chiede al Presidente della Regione Frattura il candidato sindaco di Campobasso, Pino Saluppo, sentiamo. Solo a Campobasso gli sfratti esecutivi decisi dall'Istituto Autonomo Case Popolari sono 80, più di 200 in tutta la Regione sono numeri da vera emergenza abitativa e sociale forniti dal candidato sindaco di Campobasso, Pino Saluppo che della vicenda ha informato il Presidente della Regione Paolo Frattura per chiedere l'intervento della Regione per fronteggiare un problema che sta assumendo aspetti estremamente preoccupanti. Ho chiesto al Presidente della Giunta regionale Frattura col quale abbiamo avuto anche un incontro con gli stessi inquilini una moratoria per un anno perché così si possa andare a controllare le posizioni reddituali e soprattutto bloccare gli sfratti esecutivi che sono a giorni si verrebbe a determinare la chiusura, la muratura in pratica di questi appartamenti e il danno poi sarebbe doppio perché i comuni poi dovrebbero farsi carico e fare fronte a questa situazione di vero e proprio dramma sociale. Lunedì so che il Presidente ha convocato i direttori degli ACP di Campobasso e di Serni e mi auguro che si possa risolvere questo per far tranquillizzare le persone ma soprattutto per dare un senso sociale di decoro a tante famiglie che in questo momento soffrono. Ma gli ACP andrebbero comunque riorganizzati? Secondo lei e allo stato attuale non rispondono alle esigenze abitative della Regione? Da quello che mi risulta c'è una proposta di legge di riforma dell'Istituto Case Popolari ferma da novembre in Consiglio regionale anche questo è altrettanto grave ma c'è soprattutto la necessità che l'Istituto Autonomo e Case Popolari torni ad essere un fatto sociale Nessun fate bene fratelli però non è pensabile buttare sull'astrico persone che hanno difficoltà in questo momento di grave crisi congiunturale ed economica e poi subissarli anche con sfratti esecutivi e con procedure che non hanno nulla di sociale sono contrari alla logica appunto del sociale per cui io mi auguro che si possa veramente per il bene di tante famiglie di Campobasso ma anche molisane trovare questa soluzione della moratoria. Cambiamo argomento, oggi cerimonia per l'anniversario della Fondazione della Polizia di Stato anche in Molise abbiamo scelto di seguire l'evento a disegna il questore Salvatore Torre ha tracciato un bilancio di un anno di attività più arresti e denunce ma sono anche aumentati i furti negli appartamenti Sergio Di Vincenzo Esserci sempre questo è lo slogan scelto per il 162esimo anniversario della Fondazione della Polizia testimonia l'impegno costante nel garantire sicurezza ma anche vicinanza ai cittadini con una cerimonia sobria, lo impongono i tempi e il buonsenso anche la Questura di Serni ha celebrato la ricorrenza cogliendo l'occasione anche per premiare gli agenti che si sono distinti in varie operazioni ma anche per tracciare il bilancio di un anno di attività è stata data la priorità al controllo del territorio così come che è quello che più interessa all'utenza abbiamo aumentato gli arresti tottevolmente da 9 a 16 quindi quasi raddoppiati sono aumentate anche le persone denunciate da 260 70 a 370 quindi quasi del 50% sono aumentate le persone controllate le autovetture controllate abbiamo avuto purtroppo un aumento dei frutti in appartamento di una trentina scassa una trentina in più rispetto al periodo precedente una trentina che significa che nel corso dell'anno con una media di due frutti in più al mese quindi niente di eccezionale rispetto ad altre parti del territorio nazionale nonostante il periodo di tagli e ristrettezze economiche l'impegno del personale non è mai mancato a costo di sacrificare il tempo da dedicare alla famiglia ha aggiunto il Questore gli agenti hanno sempre risposto con la massima efficienza al tempo stesso un grande aiuto è arrivato dai cittadini devo ringraziare tutti i cittadini perché quest'anno già da quando sono arrivato io già nel primo discorso che feci chiesi l'ausilio della cittadinanza e devo dire sono aumentate le telefonate sono aumentate le segnalazioni fatte dai cittadini e questo ovviamente ci agevola anche nella repressione o nell'evitare la commissione di reati intanto in provincia di Campobasso lesioni dolose e delitti informatici rapine e reati legati agli stupefacenti sono in aumento rispetto allo scorso anno mentre furti, lesioni e estorsioni sono in diminuzione questi dati più importanti resi noti durante la festa della polizia che si è svolta a Campobasso alla presenza delle autorità in aumento anche il numero degli arresti e delle denunce rispetto al 2013 cresce il numero delle infrazioni stradali e delle persone denunciate per i reati legati alle violazioni del codice della strada durante la cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti ed incomi al personale che si è distinto in attività di servizio questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci preferito a tutti voi una cordiale buonanotte grazie per aver guardato il nostro canale